ciao ragazzi buongiorno buongiorno a tutti e beh ragazzi quest'oggi mi sono svegliato proprio con la voglia di fare un bel pasto a base di pesce fresco e che faceva andava a comprarlo ragazzi cioè se hai visto mai che un pescatore va in pescheria a comprare del pesce non sia mai ragazzi e quindi come dice quella canzone pinne fucile ed occhiali e subito in acqua seguitemi dobbiamoci in questa nuova avventura NAMO! Con le pinne fucile ed occhiali quando il mare è una tavola blu pa 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 sotto un cielo di mille colori ci dobbiamo con la testa all'ingiù non è un po' Sssssssssssssssssss dai siedle informazioni, dai siedle informazioni, dai siedle informazioni, dai luogo, faii! Abbronzantissima, sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciato con te! Abbronzantissima, a due passi da mai, com'è dolce sentirti respirare con me, sulle labbra tue dolcissime, un profumo di... bezzia e pressione ragazzi, una bestia, una bestia, vai! Ehi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te, a bronzettissima. Grazie a tutti. 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 Non mette mai le mani nel portafoglio. Ed è quello che abbiamo fatto oggi ragazzi. Per tutti coloro che si sono affezionati a me, grazie ai miei video seguendomi, quindi si è creato un rapporto quasi d'affetto. Rallegratevi ragazzi, è tornato alla grande, in perfetta forma ragazzi, come ho dimostrato oggi. Quello che vi posso dire da questo video come messaggio ragazzi è entrate in acqua ragazzi sempre pronti perché io al terzo tuffo avevo fatto già i miei 3 kg di pesce. Quindi ragazzi entriamo in acqua già con gli occhi della tigra e non entro, mi devo adattare, devo fare. Entriamo già pronti con la massima attenzione ragazzi perché il pesce è sempre dietro l'angolo. Ragazzi nella prossima puntata andremo a sperimentare una cosa nuova, quello che vi avevo anticipato nel video tutorial. E' una cosa mai vista, mai provata, non so nemmeno se funziona sott'acqua, però come al solito lo scopriremo assieme ragazzi. Se vi è piaciuto il video, se vi è dato qualche emozione ragazzi mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Buon male a tutti ragazzi e alla prossima!